e veniamo un'altra puntata di formazione avariata formazione andata male sono lo zio hack ti ho parlato un pochino di tutte queste varie cose l'ultima scorsa puntata l'ho interrotto un po parlando i clienti come certi guru vedono i clienti come maiali e uno dei metodi più ottimi per sfruttare il cliente sono le certificazioni nel nord in europa in generale anche in generale nel mondo piace alla gente la certificazione non importa che è farlocca non importa che non ha nessun valore legale non importa che quella cosa lì fino a poco prima non esisteva sul mio sito se cerchi su google zio spazio hkk certificato divinità trovi il certificato di divinità così sei una divinità sei a posto c'è c'è il quello il certificato supremo è gratis non mi devi dare nulla te lo stampi te lo metti in casa ecco queste certificazioni ma anche la pnl le ftt tutte quando sono ho iniziato c'erano tutte queste certificazioni prima ti certificano il principio del maiale c'è il funnel ricordate quindi prima ti certificano come un praticante poi come un master practitioner vuol dire che sei un praticante maestro e poi c'è un trainer l'apice noi alla fine del primo corso quando facevamo cambiare divertendosi dal vivo davamo la maglietta il certificato di super master turbo notate i giochi linguistici siamo con i linguisti siamo notate i giochi tra l'altro registro sempre in diretta non correggo come se fossi davanti a voi non mi piace non sono la cazzo di disney e neanche la amata pixar mi piacciono i loro film ma non faccio quelle produzioni quindi parlo liberamente davanti a un microfono e liberamente mi ascoltate questo ve lo dico per discorsi sulla sulla qualità ecco se tu mi ascolti così dal vivo io parlo parlo uguale magari meno infattico un po più caldo dipende che cosa ho mangiato comunque c'erano queste noi riuscivamo il certificato con la maglietta di super master turbo ninja trainer se se ce l'hai tra l'altro se sei uno dei vecchi clienti storici scrivi meno salutami sotto nei commenti ecco su youtube peraltro dove si può commentare o si social e queste certificazioni farlocche però funzionano tanto è vero che oggi qualcuno ha portato la sua certificazione farlocca che non vuol dire niente non serve a niente non ha cioè se volete un certificato deve essere un certificato che vi serva qualcosa quindi medico prendetevi un cazzo di laurea se volete un certificato medico psicoterapeuta nutrizionista ci sono corsi statali italiani di pesistica c'erano anche i miei tempi quando iniziavo ad allenarmi con i pesi che ti danno una certificazione ufficiale che ti serve per qualcosa ma questi corsi farlocchi ce n'è anche qualcuno inventato ma buono è non è che sono tutti però fanno leva sui tuoi cazzo di problemi psicologici sul tuo senso di inferiorità sulla tua sindrome dell'impostore e allora hai bisogno che qualcuno dall'alto ti metta la mano sulla testa e ti dica adesso sei un ipnotista adesso sei un master trainer di pnl io li ho conosciuti ci sono andato a cena con i master trainer internazionali in inglese di pnl e sono persone come lui non hanno i poteri e qui apriremo un'altra area che non voglio aprire ma il grande trucco di questi guru farti credere che anni cazzo la voglio aprire nella prossima puntata parliamo un pochino dei guru guru quindi quelli proprio veri quelli e trucchi non tutti chiaramente è quello che che usano